Tutte quelle forze politiche... Sale la tensione a Pomigliano d'Arco, dove questa mattina gli opera e i cassi integrati dello stabilimento Fiat sono scesi in piazza dopo una lunga assemblea. Cori e slogan in risposta alle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchione circa il futuro di Fabbrica Italia, ma anche un lancio di uova contro la sede della Will e dure contestazioni a esponenti politici locali. I lavoratori hanno denunciato che su 20 miliardi di investimenti promessi ne è stato investito attualmente soltanto uno nel settore auto. Noi da 4 anni percepiamo 800 euro al mese, stiamo in cassa integrazione. Marchione ci ha promesso più volte, soprattutto con l'ultimo piano industriale Fabbrica Italia che avrebbe riassunto tutti gli operai. Noi aspettiamo ancora che Marchione, i 20 miliardi di investimento che aveva promesso a Sacconi, che aveva promesso al governo precedente e all'attuale governo, vogliamo delle risposte. Questi 20 miliardi di investimenti dove sono? I prodotti che devi fare dove sono? Non siamo più operai, solo per operai. Adesso le famiglie sono stanche, perché si sono stancate anche le nostre famiglie. Di sentirsi dire malsane verità, o bugie su bugie, basta. Siamo arrivati veramente che non ne possiamo più. Aumenta dunque la preoccupazione per il destino degli operai. Secondo la FIOM, quest'anno saranno realizzate soltanto 400.000 vetture, un milione in meno di quelle previste dal piano. Le cifre del settore auto in Europa sono comunque sempre più drammatiche, con un meno 7,8% registrato a luglio e agosto.